Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro cani sciolto 1,2,3 Oggi siamo con Lorenzo, 1,2,3 Ciao Ok, ok vi ho appena salutato Io devo iniziare una partita in Ranked Sì, pure per me Allora io sono pronto 3 perché non ci gioco mai in Ranked Lorenzo, 1,2,3 è Argento Ma che sei Argento 2 o Argento 3? Argento 3 Uh buono Allora oggi proveremo a fare una vittoria reale in Ranked Speriamo che non ci sia nessun bug Sì, speriamolo Speriamo, speriamo perché ultimamente ci sono molti bug in Arena ultimamente Soprattutto il bug default dove ti prendi... Vabbè non sto manco di spiegarlo Forse l'avete capito però ve lo spiegherò comunque Dove praticamente siete tutti con la stessa skin default Bionda Sì, è partita E poi i player ne sono di meno Infatti In una partita eravamo 30 Ok È normale signori Questa partita è normalissima Buono, buono, buono Oggi credo che faremo due partitine, boh, così Non lo so Allora situazione com'è, bug o normale? No, normale volevo dire Allora Allora Io direi di andare in un posto normalissimo Allora Allora Ehm Vabbè Qua, 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 qua Io direi di andare in questa isola qui In questa isoletta qui, vabbè Nel cielo Ti va bene? Eh? Va bene, va bene, va bene, va bene Qua lo udiamo con calma, calma Oppure No, anzi, anzi, anzi Potremmo andare qui Andiamo qua, anzi Andiamo qui Ok Lai c'è un botto di loot Ok, andiamo qui C'è Allora Ci abbiamo Assicurato un cieco Perchè Al cento per cento in ogni partita là esce un cieco Perchè ci sono quelle casse lì Tutte strane Oppure Sono io che ho fortuna e trovo sempre il cieco Ok Ok Ehm Ok Ci sono le case Le case sulla spiaggia Ehm Vabbè Io vado a lotare subito queste casette Io vado a lotare subito queste casette Io vado a ingestire Ragazzi io Stavo giusto Stavo giusto Stavo giusto Stavo giusto Stavo giusto Vengo, vengo Aspetta, prendo sto bomba Non mi come da un tasso Ok Partito Prendiamo questi flopper, band, boo Tutto Allora io assoluterei il bru Ehm Ciao Ti butta le splash Perché me le butti Ti piace le scudone Vabbè Ah no è uguale Vabbè non fa niente Non fa niente Allora andiamo C'è gente? Tengo già Vai mi sto fatto Sto girando Sto venendo Si vabbè Mi hanno quasi ucciso Tengo sette Tengo sette 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 No Tengo la vacca Ma come tu Ma quanto lo sto missando? Ehm Si io sto senza Spillato Era diamante Ah no è argento Ti prego Aspetta Ma che? Ma perchè sempre non erano anche lui? Oddio ma non sapevo sta roba Eh va troppo E va troppo 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 Ho fatto Ho fatto Ho fatto Eh signor così Uh Sceldini Sceldini per te Allora R qui Bruttissima Cioè Ehm Non è malissima però Comunque Non la preferisco Preferisco quella Con lo scar Non l'ha fatto male Tipo Lo scar fake Preferisco Voi che preferis Che arma preferite Di questa nostra stagione? Tu che squadra Eh si va bene Che squadra preferisci Ehm Preferisco Allora Te ne sono molte Eh una Una Allora La mia preferita La mia preferita Allora Allora No 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 Dio la stavo facendo Il filo assurdo Ma perchè lei è di pc Per favore Per favore Per favore Si fa il livello della macchina Allora Non mi do che Per durata Ehm Certo perfetto Ok Ok Posso usare l'altra macchina In questa Con il bot Ehm Io non direi Non ho buona idea Andare David Griffin Non so se non ho buona idea Io non andrei David Griffin Ehm Io non andrei Non andrei Non andrei A piazza Per di Andrea Adora 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 C'è troppa gente Dette Quindi Così proprio Adora 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 e non ci sono, che finiamo ho fatto, magari forse non ci si è bollata sali 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 e vabbè allora dove andiamo? l'ho detto a piazza però ho pingato malissimo io devo andare a colonne comunque raga colonne comunque raga la prossima stagione potrebbe essere ambientata sull'antica Grecia si infatti ok andiamo 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 io ho freddo il carburante ho freddo il carburante salgo sulla dove andiamo tan 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 oh questo è il mio posto che non fare qua infatti oh mi sa che quel box secondo me c'è qualcuno perchè non lo so mi puzza quel box aspetta vedi vedi qualcuno no ok 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 non c'è nessuno secondo me non ha accorto da qualche spazio no vabbè secondo tutti vabbè secondo me è morto e nessuno vuoi si è spiegato infatti vabbè oh che sarei leggendo cieco oddio io la cieco lo potrei dare una a gioco no 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 ho gioco il cerco blu io n vabbè vedo si è spiegato ok pesci scudone vabbè mi tengo due scudone ok 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 no vieni, 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 vieni ecco vabbè, siamo qua qua eh no, sono fonde, siamo tutti fuori vabbè, ci facciamo il giando ci facciamo il giando no vado alla macchina no, prendi la giando no, ma colonna ok vieni, 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 prendo la macchina eh no, esatto, lo devo mettere prendi la giando, prendi la giando prendi la giando prendi la giando ma ce l'hai col pijecco? no eh quando vieni, è quello che vi do perchè ma... c'è una giando su Sì c'è una giando sulla barca ok allora oddio ma quando non mi ha mai 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 allora lampi allora io butto io non mi ha mai 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 poi mi ha mai 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 poi allora non c'è qualcuno non c'è secondo me c'è qualcuno nei paraggi quindi andiamo a vedere chi c'è sono già in 32 buono buono oddio gente che gente che vola gente che vola vieni 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 ok gente che vola ti dò col picco no anzi non anzi quest'anno li vedo vabbè 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 ma scene due ok per dimway and do si chiamo in cercamos scing ecco oh comunque raga vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per non perdere nessun video ok io sono un cieco e un pompa io ho una R un pompa verde un cieco blu e la lama nara un pino e un tesco blu però se trovo andiamo a Grand Station andiamo lì a Grand Station andiamo e vedendo un po' di materiale allora io vorrei di prendere un po' di materiale che ci serve di più allora io non so e la conferiamo un attimo qui oh non mi uscite un'idea io non è zega no no al basso non ho ancora killato non l'arma c'è no credo ma io vorrei di kill l'arma ah io mi prendo l'arma ok mi so più eeeh dov'è? ma? no sono presi no 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 non c'è più il medaglione dov'è? sono so presi il medaglione sono so presi corri scappa saranno finito il quad è la rimboscata scappa corri corri la rimboscata corri la rimboscata corri 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 no 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 sono i pezzi che fanno tutti aiuto 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 no l'ho messa secondo me che questo non c'è pure infatti infatti si che l'ha dato ho eliminato l'ho eliminato oh grazie no ho fatto un 110 assurdo che ho fatto ma questa cosa se la stava camberando eeeh questo proprio mamma mia ma tu non te l'hai accorto che hanno cacciato lo scarro nel gentario? avevo lo scarro nel gentario dove? dove? nel capo aveva lasciato oddio guarda bello 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 bellissimo eeeh comunque secondo me quello non mi doveva proprio sparare però l'ho fatto un 110 all'interno del cisco io mamma mia oh non è dalle cose che ti vanno cambiato oh miser eeeh allora vieni c'è qualcuno qui dentro oh no no però non ho lasciato tanta roba tanta roba bella ho lasciato tanta roba bella buono sto eeeh buono lo so sono indeciso sono indeciso questo piccolo puoi scrivi l controllo cinque serie liveyori and voi non sa giusto at grazie no ho ci 110 sordo? 110? te l'ho atterrato mamma mia dove sta? dove sta? sono in auto sei in auto sei in auto sei in auto sta scappando no ma è la mia? eh si fa bene col pompa da 800 metri non so come cerco vabbè grande 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 attento questo come mi hanno ucciso? mi hanno ucciso curami curami ha atterrato ha atterrato no li avevo atterrati tutti e non li avevo uccisi ma ma ho fatto il delico ma ho fatto il delico signori facciamo una bug fighter per rilassarci ma infatti oh raga al 101 sono arrivato in tutto l'opero oh mio dio al 103 e 79 eh io sono al 101 e 37 mica male mica male mi torna loro sono salita sono salita un pochino no 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 raga andiamo alla pubblica vai le due contro altre due si vabbè facciamo due di due vabbè per allenarci per rilassarci perchè comunque è stata una bella partita devo dire devo dire che è stata una bella partita devo dire per gli scritti vorrei dire una cosa allora noi vi daremo la il nome della mappa vabbè vabbè è stata una bella per il box cittimu timu 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 nooo nooo non stiamo insieme vabbè eh vabbè vabbè ok ok vabbè non fa niente eh ci abbiamo provato vabbè allora vabbè l'edito l'edito buonissimo ma 32 è Vittorini, 1 a 0 signori, 1 a 0, 1 a 0, mamma mia, diciamo bene, comunque devo dire una cosa, il compagno di Lore è proprio una, non so se è proprio un bot, però, ma che, cosa ho visto, ma cosa, olè, 1 a 0, mamma mia, questo è un solo, però è il compagno di Lore, ma, mamma mia, se è un bot più, più labbo che abbiamo visto, no, mi sono porto da l'ore, eh, dai, 3 a 0 tattico, magari ci sono, mira, vai, magari, aspettare, Ai, 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 attenzione, 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 ha un HP, ha 1 HP, sto qua, Giuseppe ha 1 HP 2014, 34,9, ha 1 HP questo, ha 1 HP, si è scendato, ok, si è fatto il pesce, ok, No, oh, Vittorini, eh, no, ma che sorrendo, ma che sorrendo, ma io, io li, io li speck, Eh, magari, senza il mio repubblico, fanni oltre, oh, oddio, 1 HP, un amico, shift, un amico, assurda, un'umiliazione assurda ok così così no ma come ho messo tu ho messo l'ultimo alterrato nooo mi rimangio tutto è forte questo, cioè no non è fortissimo però non lo spagno non so eh questo video sta durando veramente molto non credo che rifaremo questa mappa però in un prossimo momento credo si e io maio lago non so cosa sto fare oh no 5 a 1 quanto siamo? 5 a 1 signori prima sconfitta mamma mia ma che no dai no dai è già fatto il mio bro si dai eh allora ma 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 no 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 6 a 1 signori ok ma che ma dai lo sto spammando adesso adesso perché lo finisce anima mi rianima rianima grande no vai 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 7 a 2 signori 7 a 2 2 allora da un lato stiamo vincendo veramente un botto però dall'altro lato mi dispiace per lorenzo che ho trovato un blu ma io lo vedo larga non no 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 2 signori 8 2 credo che dopo se vinceremo stupendo dopo se vinceremo stupendo il video perchè sta già durando un po' roppo uh mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia non non andiamo male uh ha tirato io animo si raga ok cerchiamo di rifarla no 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 è già durato troppo il video spero che il video vi sia piaciuto dal vostro canesciolto 1 e 3 io e vi saluto con questo carissimo balletto ciao